Il progetto è un amico Tom di Anjara con il suo The Avilan di H82 Il progetto è il TigerMot È il futuro Il progetto è il TigerMot Visione e Bozzano in Piazzona Il coroprano veniva in servizio con il 1952, quando molti degli aerei militari sul Prus entrarono nell'operativo civile. E' stato usato da un addestratore da molti piloti per portare la vicenda il cosiddetto Time Dragon, che in gioco attivo significa atterrare con un aereo o con due ruote davanti al bacio, e per un'altra parte di posto. Le caratteristiche e tecniche di questo aeroplano il produttore della Marantla Aircraft Company, il suo disegnatore, Gioia Prendilami, da un'altra azione al volo, giù se l'anno a fare il 1913. Vediamo Tom esibirsi in un passaggio basso su pista, in un'altra parte di posto. Beri pari 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 che pari 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 Grazie a tutti